Buongiorno, buongiorno signore e signori, benvenuti al maggio, anzi come diciamo ormai quasi di prammatica, bentornati al maggio. Mi fa molto piacere, ci fa molto piacere a me e tutti quanti i nostri colleghi e a chi è seduto al tavolo, di vedere una folla delle grandi occasioni per questo lancio. Non è una conferenza stampa perché come sapete il festival fu presentato già nello scorso novembre dal commissario Cutaia. Questa è una, permettetemi di dire, magari una cerimonia tra di noi che dà avvio ufficiale formalmente all'86esima edizione del festival del maggio musicale fiorentino. Do il saluto e il benvenuto al maestro Zubin Meta, il nostro direttore emerito. Tra poco arriverà anche il maestro Gatti che sta terminando la prova e in scena il 13 con il concerto inaugurale. Al presidente della fondazione del maggio musicale fiorentino e sindaco di Firenze, Dario Nardella. Al presidente della regione toscana Eugenio Gianni e per ultimo tengo, dandogli più caloroso benvenuto, gli auguri di buon lavoro da parte di tutti noi, al nuovo sovrintendente del teatro Carlo Fuortes. Collegati con noi via Zoom ci sono diversi colleghi della stampa, altri sono qui e li ringrazio. Collegati ci sono anche Fabio Vacchi, l'autore dell'opera contemporanea Jeanne d'Arc, c'è Massimo Popolizio, il regista a cui è fidata Tosca, che sarà diretta dal maestro Gatti. In sala abbiamo Stefania Grazioli che riprende la regia di Jean Gimou per Turandot. Veramente il parterre delle grandi occasioni e sono molto contento di poter salutare, magari dimenticando qualcuno, gli amici, li chiamiamo tali, che sono ovviamente qui. Cristina Giacchi che è presidente della commissione cultura del consiglio regionale toscano, i nostri consiglieri di indirizzo, la dottoressa Giacchetti, il vicepresidente vicario Valdospini, Rosa Maria De Giorgi che è presidente del conservatorio, saluto il sovrintendente Claudio Martini della scuola di musica di Fiesole e il presidente della scuola di musica di Fiesole, Alessandro Mugelli. Quella che è l'associazione che è nel nostro cuore, l'Accademia del Maggio, con il presidente Mario Curia, con il nome tutelare dell'Accademia che è il maestro Gianni Tangucci e per ultimo segnalo la presenza, lo ringrazio, il senatore Passigli che è il presidente degli amici della musica a Firenze, l'ho tenuta per ultimo perché voi sapete che è dagli amici della musica di Firenze e che prende poi avvio quella fiamma che ha dato il nascere al Maggio musicale fiorentino. Ovviamente con loro, i soci, gli associati, gli amici del Maggio e comunque tutti gli amici e gli ospiti e i miei colleghi e i nostri colleghi che sono comunque qui adesso. Mi fermo, passo per la prima parola e per il suo saluto al presidente Gianni e lo ringrazio. Ma io sono davvero contento di vedere una conferenza stampa che era nata per la presentazione del programma ma diventa la conferenza stampa delle grandi occasioni perché è indubbio che l'arrivo del sovrintendente Fuertes dà a tutti noi il senso di un nuovo orizzonte che si apre per il Teatro del Maggio e naturalmente quando parliamo di Maggio musicale fiorentino parliamo dell'istituzione più prestigiosa non solo per Firenze ma l'istituzione più culturale, più prestigiosa per la Toscana. Questo me lo dice anche la graduatoria dei finanziamenti che al di là dei 4 milioni dell'anno scorso noi 2 milioni e 9 l'anno non lo diamo a nessuno. Questo per dire che accanto alla città è sempre stato molto bello vedere identificato il ruolo del sindaco di Firenze di Dario Nardella che come musicista e violinista ha una particolare predilezione verso tutto ciò che nella cultura è la musica ma oltre a vedere il ruolo di Dario è indubbio che anche la regione toscana si sente parte fondamentale del corpo dei soci Presidente Fuertes per me è un riferimento, lo è stato come Presidente della RAI il fatto che lui oggi arrivi qua a Firenze dà una visione nazionale e internazionale a quello che vuole essere l'orizzonte che si apre e naturalmente Zoom in meta è il nostro riferimento assoluto anche la stessa strutturazione di questo teatro che non dimentichiamo mai lo dico al sovrintendente Fortes fu il regalo a Firenze Capitale che negli anni 2006-2007 io mi onoravo di partecipare come assessore al Comune di Firenze a quelle scelte, a quelle riunioni in giunta con l'allora Sindaco Domenici a fronte del fatto che per il 2011, ovvero l'anno dei 150 anni della Unità d'Italia le tre capitali d'Italia, Roma, Torino, Firenze avrebbero avuto un'attenzione particolare e mentre a Torino e a Roma ci si indirizzò verso scelte plurime di iniziative anche di carattere strutturale a Firenze facemmo un'unica scelta, diciamo tutto ciò che lo Stato può dare per le tre capitali a Firenze le concentri sulla strutturazione del nuovo teatro ecco quindi un intervento che poi fu inaugurato dal Presidente della Repubblica esattamente il 21 di dicembre del 2011, gli ultimi giorni di quell'anno in cui si festeggiavano i 150 anni e noi questa ambizione di essere capitale attraverso il suo ente lirico di essere capitale nel senso di una partecipazione emotiva a una Firenze e una Toscana che lo vogliono essere non istituzionalmente ma della cultura lo vediamo attraverso questa grande istituzione la Regione Toscana con il nostro Vice Presidente Vicario Valdospini è rappresentata a pieno nel Consiglio di Indirizzo e superando quello che sono state i puntolini che metto nell'ultima fase ma con lo spirito in positivo di guardare a quello che sarà una prospettiva importante io faccio i migliori saluti al Sovrintendente Fuorte se voglio dare il senso di una Regione che sarà partecipe nel gioco di squadra che anche nei momenti delicati siamo riusciti a condividere ringrazio di questo Dario Nardella voglio ringraziare quello che è il contesto di tutti gli enti territoriali la Fondazione Cassa di Risparmio naturalmente il Ministero che attraverso il FUS è il principale sostenitore poi delle attività del teatro un auspicio che il teatro viva delle attività che gli sono proprie come ente lirico ma si apra io vi faccio un solo esempio per capire cosa voglio dire quando siamo stati recentemente negli Stati Uniti a New York per quello che voleva essere il saluto ai cento anni di Puccini il direttore del Metropolitan mi disse oggi lei è presente farai il saluto e così lo feci per i cento anni di Puccini ma venga anche domani sera il giorno dopo al teatro vi era un musical ma con artisti lirici di grande eccezione sulla vita di Griffith era un episodio di contemporaneità in quel momento il pugile che noi ricordiamo nei suoi scontri con Nino Benvenuti essere uno degli sportivi mondiali d'eccezione che aveva vissuto un dramma l'uccisione di una persona e devo dirvi che da un punto di vista musicale uno spettacolo bellissimo e perfetto non ortodosso rispetto a quello che era diciamo la musica lirica come concepiamo con le nostre opere però vi posso dire che c'era più persone e vi era un calore in questo spettacolo sulla musical che ti proponeva la vita di Griffith che quello che vi era per la buona di Puccini a cui avevo portato il saluto il giorno prima ecco il messaggio vuole essere quello di aprirsi a nuove iniziative perché questo luogo possa diventare non solo il luogo ortodosso della concezione che noi abbiamo un ente lirico ma sappia anche aprirsi al nuovo e possa proporci tanti spettacoli a partire dell'uso del anfiteatro che abbiamo sopra perché accanto alle due grandi sale visto che ci è costata 260 milioni anche gli spettacoli durante il periodo estivo sopra possano caratterizzare una iniziativa che possa essere sempre più forte e più brillante grazie grazie signor presidente signor sindaco grazie grazie Paolo innanzitutto come presidente di questa fondazione do il benvenuto a tutte voi tutti voi i giornalisti i rappresentanti e le rappresentanti delle istituzioni che Paolo Clun ha già menzionato e ovviamente come rappresentante del consiglio di indirizzo a nome mio personale della consigliera Antonella Giacchetti del vice presidente vicario Valdospini e degli altri membri del consiglio un grande e sincero in bocca al lupo per questa nuova avventura al nuovo sovrintendente Carlo Fuortes a maggio terremo un consiglio di indirizzo con il sovrintendente quindi avremo modo di cominciare a condividere nel merito le modalità di collaborazione di questo nuovo consiglio e ringrazio ovviamente tutti i soci a cominciare dal presidente Eugenio Gianni che è qui e che devo dire mi è sempre stato vicino in questi momenti complessi di costruzione della nuova governance ringrazio così come ringrazio il ministro della cultura San Giuliano il presidente della fondazione Cassa di risparmio Bobo Bocca e l'amministratore delegato della banca intesa San Paolo Carlo Messina ringrazio tutti gli amici e l'amiche del maggio musicale l'associazione degli amici perché comunque sono stati vicino a questo teatro anche nel momento difficile che teniamo alle spalle così come saluto con affetto l'amico maestro Zubimmeta con cui abbiamo trascorso momenti bellissimi e altrettanti ne abbiamo di fronte Zubimmeta è sempre stato vicino al nostro teatro sempre sappiamo caro Zubim che il teatro è la tua casa tu hai tanti teatri nel tuo cuore ma siamo sicuri che il teatro del maggio musicale occupa lo spazio più grande del tuo cuore accanto a tanti altri prestigiosi istituzioni musicali e culturali ovviamente ringrazio anche Daniele Gatti che ha condotto diciamo tutta la direzione artistica in questo periodo io sono molto felice davvero di questa conferenza stampa come ha detto Eugenio non è solo la presentazione del Festival del Maggio ma è anche diciamo la fine di un nuovo inizio nel senso che ora costruiamo la nuova fase del teatro e lo facciamo anche con il teatro al completo sono felice di darvi questa notizia perché nei prossimi due settimane ne parlavamo con Carlo finiranno proprio gli ultimissimi lavori di rifinitura dell'ultimo piano dove troverà accoglienza il ristorante o comunque un'altra attività diciamo di intrattenimento del pubblico del teatro del Maggio la inaugureremo troveremo una data tutti insieme ma insomma a maggio proprio durante il Festival quindi sarà veramente completato questo teatro fa tremare i polsi per la sua grandezza e quindi ha bisogno di essere riempito di tanti importanti contenuti è come avere una Ferrari a quel punto la benzina e grazie al piano di risanamento di 8 milioni di euro dell'anno scorso con il commissariamento siamo riusciti a garantire la benzina e l'energia ora ci vogliono le idee le proposte i progetti anche con quello sguardo a cui si faceva prima riferimento sono fiducioso che Carlo Forte esporterà davvero una ventata di ottimismo e di entusiasmo nella nostra fondazione forte della sua esperienza ricordo il mio primo incontro con Carlo Forte ero proprio un ragazzino un consigliere appena consigliere comunale il presidente della commissione cultura lui era il dominus del parco della musica e parliamo proprio di come il parco della musica sarebbe cresciuto attraverso tante attività culturali non solo del sinfonico a cui il parco della musica è prevalentemente rivolto ma anche di tante altre discipline musicali quindi sono sicuro che quell'esperienza servirà anche per la conduzione di questo teatro così come la sua esperienza di direttore generale della RAI di commissario in altre istituzioni ricordo l'opera di Verona l'arena di Verona solo per citarne per citarne una un bagaglio straordinario ecco il maestro Gatti buongiorno maestro grazie che è anche il segnale che posso concludere il mio saluto dicevo appunto se non prima di aver detto che questa esperienza che Carlo Fortes porta con sé insieme anche alla sua giovane età gli consentirà di essere un sovrintendente come ha detto lui che viene qui per restare mi è piaciuta molto questa espressione ho chiesto al sovrintendente di poter ritessere le relazioni con le istituzioni culturali della città alcune delle quali sono qui rappresentate non solo le istituzioni musicali per l'appunto ma culturali a tutto tondo e facciamo un grande in bocca al lupo al maestro Meta al maestro Gatti e a tutti gli artisti le artiste alla Norte Orchestra al coro le maestranze perché questo deve essere non solo il festival della rinascita ma anche l'anno della rinascita perché bisogna subito mettersi a lavoro per la programmazione artistica diciamo conclusiva di quest'anno e soprattutto degli anni prossimi quindi un rinascimento del maggio musicale fiorentino che sono sicuro con questa sovrintendenza ha definitivamente voltato pagina rispetto a vent'anni difficili con tre commissariamenti con una durata di sovrintendente media tra le più basse dei teatri italiani dobbiamo davvero voltare pagina e abbiamo bisogno di tutta la città e vorrei dire Eugenio lo ha già detto il presidente di tutta la regione questo credo che sarà davvero di grande aiuto perché questa è una grande istituzione internazionale che parla al mondo e ora lo fa con un teatro bellissimo con due sale di grande tecnologia acustica e molto capienti e con degli esponenti della musica a livello internazionale di eccellenza che è difficile trovare insieme in un teatro dell'opera tanti auguri un in bocca al lupo al nostro grande maggio musicale fiorentino grazie signor sindaco prima di passare la parola al sovrintendente chiedo scusa ma volevo salutare Cristina Manetti che è capo di gabinetto del presidente e mi sono dimenticato poc'anzi di salutare il presidente dell'orchestra della Toscana Luciano Frittelli dietro di lui non l'avevo visto c'è Stefano Fiuzzi che è il direttore artistico dell'Accademia del Fortepiano col quale proprio il giorno dopo dell'inaugurazione incominciava un ciclo di concerti scusatemi comunque benvenuti sovrintendente buongiorno allora grazie a tutti grazie a tutti e vi devo dire che io sono veramente felicissimo di essere qui oggi e di essere qui non come spettatore del maggio che sono stato varie volte ma di essere il solitendente di questa di questa istituzione che conosco fin da ragazzo io frequentavo queste istituzioni da ragazzo venivo da solo con amici in treno ad assistere alle grandissime a grandissimi spettacoli a grandissimi concerti del maestro Meta per me è un onore veramente non lo dico non è una frase di brammatica lo sento veramente è un onore e una grandissima responsabilità veramente occupare questo ruolo insieme ad artisti del calibro di Zubi Meta e Daniele Gatti con dei complessi artistici straordinari grazie ovviamente al lavoro che si è fatto qui in decenni voglio citare solo Muti maestro Meta e Daniele Gatti che sono riusciti appunto a depositare un valore assoluto orchestra e coro che non sono secondi a nessuno in Italia e nel mondo queste sono ricchezze che ha il teatro del quale tutti i fiorentini tutti i toscani ma tutti gli italiani dovrebbero essere veramente fieri quindi veramente sono felicissimo ma sono felicissimo di dirigere questa istituzione musicale che è molto diversa dalle altre istituzioni italiane è più giovane paradossalmente nonostante ci avviciniamo ai cent'anni nel 28 sarà il centenario dell'orchestra nel 33 il centenario del festival gli altri teatri d'opera italiani sono nati nel 700 nell'800 rappresentano una grande tradizione dell'opera italiana importantissima fondamentale ovviamente il maggio musicale nel 33 inventò un'idea di festival veramente assolutamente innovativa che accanto alla grande tradizione operistica portava la modernità portava la contemporaneità portava la cultura contemporanea portava i grandi artisti faceva un dialogo con le altre arti con gli altri generi artistici ecco tutte queste cose che adesso sono replicate in tutti i grandi festival internazionali europei e mondiali sono esattamente ispirati a quello che qui a Firenze fu inventato cento anni fa quindi la strada è assolutamente quella e continuare su quella è tracciata è l'interdisciplinarità la contemporaneità ovviamente la grande tradizione l'eccellenza musicale il dialogo tra le arti anche un allargamento alla città ricordo il coinvolgimento di Boboli di grandi dei palazzi fiorentini è veramente già tutto scritto in quello che dovremmo fare per riportare a livello della reputazione che merita il maggio dell'immagine ma del contenuto culturale che viene offerto a tutti i cittadini fiorentini della Toscana ma del paese perché l'ambizione del maggio deve essere assolutamente quella e di tutto il mondo quindi io veramente sono felicissimo di tutto questo e credo in queste sto finendo le mie prime tre settimane ho avuto veramente dei ritorni straordinari anche non soltanto ovviamente per il teatro ma per tutte le risorse umane che lavorano in questo teatro devo dire sono certo che si potrà fare insieme un grandissimo lavoro superati i problemi finanziari che purtroppo hanno gravato su questa su questa istituzione per qualche decennio parliamo del festival però del festival che parte appunto sabato con il concerto del maestro Gatti è un festival ideato lo voglio dire subito lo voglio ringraziare dal commissario Onofrio Gutai a quando appunto in un momento molto difficile un momento non facile ovviamente eppure si è riusciti a fare un festival che in qualche modo nella direzione e nella strada che dicevo poc'anzi ovviamente nel futuro bisogna lavorare in modo molto diverso con nuove produzioni con più nuove produzioni nuovi allestimenti nuove composizioni però la strada è stata quella giusta abbiamo incentrato come sapete su tre donne due eroine pucciniane come Turandot e Tosca e Giovanna d'Arco addirittura una santa che è l'oggetto della nuova composizione di Fabio Acchi due nuove produzioni due nuovi allestimenti e per Turandot invece una grande produzione storica che è ancora incredibilmente viva a distanza di trent'anni di Zhang Jinmu che credo veramente potrà interessare tutti i grandi concerti con veramente il meglio delle direzioni di tutto il mondo abbiamo qui appunto maestro Meta e il maestro Gatti ma ci sarà il maestro Muti con i Wiener ci sarà un Chung quindi veramente una cosa a livello di quello che è il maggio e come appunto veniva detto sia dal presidente Gianni che dal presidente e sindaco Nardella c'è una collaborazione con tutte le istituzioni musicali e culturali di questa città e della regione credo che sia indispensabile questa è una casa ovviamente di tutti noi abbiamo l'onere e l'onore di gestirla però sarà e in questo modo già in questo feste ma sarà anche in futuro una casa ovviamente aperta a tutti aperta a tutte le collaborazioni perché l'obiettivo ovviamente è allargare e ampliare il servizio che noi possiamo svolgere ovviamente anche con l'aiuto di tutte le forze quindi cito i concerti che sono stati prodotti con l'accademia Bartolomeo Cristofoli sulle ali del canto sono cinque concerti vado veloce per non tediarvi cito i concerti con il conservatorio di musica Luigi Gerubini di Firenze i concerti con la scuola di musica di Fiesole cito il lavoro che viene fatto sul territorio dall'orchestra del maggio con la sua spalla Domenico Pierini cito il concerto dell'Omar Mè che ci sarà a maggio per farvi capire anche appunto il coinvolgimento di tutte le istituzioni territoriali cito la compagnia Zappalà il balletto trilogia dell'estasi con ovviamente il progetto di Zappalacito la collaborazione con l'orchestra della Toscana diretta dal giovane Riccardo Bisatti il concerto con Gamo non voglio li voglio citare tutti e quindi Alexander Lonquich con l'orchestra giovanile italiana il lavoro che viene fatto con tempo reale insomma è un lavoro devo dire nonostante le difficoltà del momento credo importante è un lavoro che è stato esteso veramente a tutte e che continuerà ovviamente continuerà e verrà potenziato devo dire che il lavoro fatto dal teatro recentemente ha portato anche dei risultati molto buoni in termini di biglietteria abbiamo moltissimi sold out è sold out il primo concerto di Daniele Gatti è sold out Turandot le cinque recite di Turandot sono già tutte esaurite il concerto del maestro Schung il concerto del maestro Muti quindi un invito veramente a comprare i biglietti perché sennò il rischio è che anche Tosca vada esaurita a breve questo dimostra la possibilità che il teatro ha al di là di quello che spesso si dice di lavorare di riempire delle sale così importanti e così grandi quindi questo credo sia un ottimo veramente un ottimo segno un ottimo dato iniziale ovviamente nel futuro la cosa importante sarà recuperare il pubblico internazionale allargarlo intercettare anche il pubblico di passaggio a Firenze è molto importante riuscire a fare anche quello e con questo teatro saremmo in grado di farlo voglio dire che stiamo rafforzando anche il programma di quest'anno molto importante abbiamo inserito veramente in corsa tre opere nuove tre produzioni nuove al programma del 2024 di questo non parliamo oggi ne parleremo più avanti presentandole con tutti i particolari c'è un evento straordinario che riguarda il maggio musicale riguarda in particolare questo teatro come oggetto come luogo fisico e cioè il programma che ci sarà il 29 aprile sul Rai 1 di Bolle che avrà come protagonista oltre ai danzatori gli spazi del maggio tutti gli spazi del maggio saranno coinvolti in qualche modo nel programma i promo lo vedremo alla fine vedremo un promo di questo programma che verrà mandato molte volte su tutti i canali Rai generalisti credo che questo sia un modo per far conoscere questo spazio straordinario questo teatro straordinario a tutti gli italiani direi di chiuderla qui sarà un lavoro di cinque anni come diceva il sindaco quindi io credo che riusciremo ad arrivare a quello che può essere in maggio in un paio di anni iniziamo da subito a cambiare ovviamente le cose il venticinque sarà un anno importante che spero dia il segno di questo rinnovamento e questo sviluppo nel ventisei questa cosa penso sarà se non definitiva insomma in qualche modo già raggiunta e quindi veramente credo che questo sia tutto questo lavoro sia indispensabile per recuperare appunto la reputazione che il maggio deve avere a livello internazionale è principalmente avere quella legittimazione sociale che è giusto che un'istituzione come la nostra abbia nella idea nella mente di tutti i cittadini di Firenze della regione toscana e di tutto il paese grazie grazie non ampio come tutti i due mesi di programmazione ovviamente state tranquilli ma comunque dando la parola al maestro Gatti che inaugura con il concerto il 13 poi al maestro Meta che chiude il 13 giugno dopo due mesi ai nostri due direttori il direttore principale e il direttore merito sono assegnate l'apertura e la chiusura ed entrambi i direttori il maestro Gatti e anche con altri due concerti coinvolgono ovviamente nella programmazione anche il coro quindi sono due concerti sinfonico-corali nel primo concerto il maestro Fratini direttore del coro che qui ringrazio anche la sua presenza addirittura avrà l'onere della direzione del primo brano lascio la parola al maestro Gatti anche perché è collegato con noi Massimo Popolizio il regista di Tosca che ha delle limitazioni di tempo perché ha delle prove al Teatro Mercadante a Napoli in questo momento ma grazie di essere collegato con noi Massimo grazie molto gentile Daniele per piacere maestro buongiorno a tutti chiedo scusa per il ritardo perché eravamo in prova proprio per questo programma di sabato e quindi sono arrivato un pochino in ritardo dunque siamo in convalescenza e stiamo passando una convalescenza in mezzo a degli amici molto importanti perché dopo essere stati in terapia intensiva adesso cominciamo a vedere un po' di luce vorrei prima fare un saluto a Carlo Carlo perché abbiamo passato insieme tre anni all'Opera di Roma anche lì entrando in una fase non facile con il covid e tutto ma quante cose abbiamo inventato sì è vero Roma magari in quell'epoca non era stata così colpita come altre città è vero ma comunque sia no? ti ricordi? abbiamo cercato di mantenere viva la fiamma e non lasciarci soggiogare il nostro messaggio credo sia stato questo il covid sta distruggendo ma la musica non morirà adesso sono felice che Carlo sia venuto qua da noi che abbia già cominciato diciamo a trovare concordia e progettualità sono stati dodici mesi difficili perché io parlo da musicista il musicista ha un rapporto con il pubblico l'orchestra il coro le masse siamo stati bastonati non perché ce lo meritavamo e lo devo dire oggi perché siamo tutti da continui articoli giornalieri sul giornale polemiche e tutto senza mai ricordarsi che chi lavora all'interno del teatro produce musica ha un'anima ha un sentimento e siamo tutti esseri umani andare in palcoscenico avendo letto la mattina costanti polemiche è stata molto pesante un applauso va alla mia orchestra al mio coro ai maestri collaboratori a chi in ufficio ha tenuto la barra dritta perché fare un buon concerto può essere semplice ma avere lo stato d'animo giusto affinché il pubblico che viene a sentirci possa ricevere qualcosa di particolare e portarselo a casa non è stato così semplice il maestro meta ci è stato molto vicino io conosco il maestro meta da tanti anni mi spiace se parlare così però il maestro meta io lo conosco da quando ero studente in conservatorio perché uscendo dalla scuola andavo alla scala e lui dirigeva lì immaginate quando poi sono stato chiamato per prendere questo ruolo e sapevo che avevi trovato Zubin quindi grazie anche di questo e della tua e della tua forza per essere restato in questo momento difficile con noi bene grazie per avermi lasciato diciamo tirare fuori un po' di amarezza che adesso ha un colore naturalmente diverso e abbiamo pensato e volevo anche in questo aggiungermi a quanto detto dal sovintendente un ricordo della collaborazione per 12 mesi con Onofrio Cutaia che nell'operare diciamo senza anestesia tanto per rimanere su questo è stato molto attento da non creare più dolore di quello che ci poteva essere quindi il frutto di questi 12 mesi si può anche diciamo sintetizzare in progetti che sono stati fatti io ho avuto la possibilità di anche lanciare sempre rimanendo collegato a quello che è lo spirito del maggio come festival di una sorta di teatro che possa spingere un po' in avanti con l'innovazione e ricorderò per me per tutta la vita questi 5 concerti che abbiamo fatto al posto di opere che non potevano essere allestite sul progetto di Arturo Neger abbiamo fatto vi ricordate questi concerti dal mese di ottobre i 5 concerti per pianoforte di Beethoven 5 brani da 5 scuole europee del 900 e questo ha creato credo un interesse per quello che il maggio può fare in termini di proposta un compositore praticamente non direi sconosciuto ma ai più desueto è stato accolto dai nostri musicisti e dalla gente che veniva a ascoltare come una novità molto molto interessante proseguendo su questa strada due titoli popolari come Turandot e Tosca per l'anno per l'anno pucciniano erano abbastanza scontati ho voluto aggiungere tre miei concerti con una linea un filo rosso che potesse collegarli all'interno e nella loro completezza nel numero 3 e cioè tre brani sacri con la presenza del nostro coro che naturalmente è molto presente in Turandot non così tanto in Tosca il desiderio mio che il maestro Frattini come già successe in un altro concerto ebbe l'onere ma io direi anche l'onore di aprire il festival dirigendo egli stesso il suo coro e quindi anche dimostrando che il lavoro del maestro del coro non termina solo prendendo gli applausi a sipario aperto e dimenticandosi che esista una forza musicale così preponderante in teatro e quindi la costruzione con tre brani sacri nel primo programma di sabato stiamo diciamo investigando su quella che è la Vienna dell'espressionismo con questo brano questo Salmo 13 di Zemlinski brano che in vita il compositore non ebbe modo di ascoltare perché credo che la prima ebbe luogo negli anni 70 che ben si adatta secondo me con la quarta sinfonia di Mahler soprattutto per la connessione tra il tema sacro del testo del Salmo e il mondo paradisiaco nell'ultimo movimento della quinta sinfonia nel Salmo l'uomo chiede a Dio perché si nasconde perché non ci mostri il tuo volto come farò a difendermi dai nemici nella quarta sinfonia che è tutto un percorso verso un ascesi veniamo accolti al quarto movimento dalle porte del paradiso che si aprono e non c'è San Pietro che ci accoglie ma c'è un piccolo angelo che ci racconta le gioie quotidiane del paradiso è un'idea drammaturgica certo al di là di tutto questo c'è una costruzione che è poi desidero insomma in questo caso sottolineare un percorso verso una spiritualità verso una positività un'uscita del maggio da momenti neri verso il futuro perché signore nascondi il tuo viso e sono stati questi dodici mesi che abbiamo passato e adesso il piccolo angelo che ci accoglie all'ingresso del paradiso è questa è questa luce che si sta accendendo i miei concerti all'interno di Tosca sono avevo tanta voglia di riprendere la musica di Petrassi e ricorre il centoventesimo anniversario dalla nascita quindi due composizioni di Goffredo Petrassi uno il Magnificat composizione diciamo del periodo giovanile Magnificat che ebbi la fortuna di dirigere trenta più anni fa Santa Cecilia con il maestro Petrassi presente e il Salmonono una composizione potentissima con un organico molto particolare archi ortoni percussioni e coro a questi ho aggiunto due sinfonie di Shostakovich la quinta sinfonia e la decima sinfonia sono piccoli diciamo concerti che fanno pandan l'uno con l'altro ma che danno anche un po' l'idea di un miniciclo quel miniciclo che ho cominciato appunto l'anno scorso con le sei sinfonie di Tchaikovsky con il progetto Neger e che adesso prosegue in questi termini sono molto felice e poi concludo anche di salutare l'amico Popolizio e ricordo che Massimo fu il narratore del nostro concerto credo di due anni fa al maggio dedicato al mito greco a Edipo Re vi ricorderete i tre brani di Edipo Re di Hilde Brando Pizzetti anche lì composizione completamente caduta nell'oblio riproposta e abbinata all'Edipo Re di Stravinsky Massimo fu il narratore di quello ci siamo già trovati abbiamo lavorato su questa idea di Tosca e e quindi diciamo in attesa di andare io a Siena assieme ai giovani cantanti della dell'Accademia che quest'anno si esibiranno nel Don Pasquale sottolineo il fatto che da tre anni c'è questa da due anni c'è questa connessione tra l'Accademia musicale chigiana e il Maggio Fiorentino i giovani dell'Accademia grazie al maestro Tangucci saranno diciamo i nostri sarà il nostro cast da dove i giovani direttori si potranno esibire nella preparazione del Don Pasquale di Donizetti vi ringrazio ancora e passo la la parola a Zubin a Massimo Popolizio ci sta aspettando chiedo scusa al maestro va bene grazie mille un attimo c'è da parte nostra la curiosità di sapere come sarà se ambientazione o taglio questa nuova Tosca abbiamo visto qualche bozzetto qualche figurino ci sono molto probabilmente delle citazioni cinematografiche che è una personalità come lei non può evitare magari di ricordare un grande uso di marmi che noi invece qui al teatro abbiamo piacere di pensare di quelli che ci sono nella metafisica cavea sul nostro teatro quindi marmo bianco lucore splendori di questo tipo che ci riportano probabilmente a un'epoca un po' più recente rispetto alla Tosca pucciniana grazie maestro audio l'audio del maestro massimo dovresti per piacere attivare l'audio perché non ti sentiamo adesso mi sentite ora si grazie ecco grazie no si no innanzitutto sono onorato di essere stato scelto per questa cosa ringrazio tutti chiaramente spero di essere all'altezza della situazione sì sarò brevissimo per l'ennesima Tosca che si fa il problema non era tanto quello che si doveva fare ma forse anche quello che non si doveva fare ecco forse probabilmente sì questi marmi che avete visto sono un riferimento un reference soprattutto con 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 Margherita Palli che fa le scene Pasquale Mari che fa le luci e Silvia Imonino che curerà i costumi e il nostro il nostro riferimento è stato il conformista di Bertolucci quindi qualcosa che si svolge tra il 1920 e il 1930 dove diciamo i temi principali che tutti conosciamo potere erotismo sesso violenza spiritualità morte debbono essere diciamo come enfatizzati da questa da questa messa in scena abbiamo diciamo pensato a qualcosa di più raffinato per quanto riguarda Tosca senza togliere chiaramente il carattere popolare dell'opera ma siamo convinti che diciamo quel sesso quell'erotismo quella violenza quell'uccisione che Tosca fa nel secondo atto di Scarpia sia più forte molto più evidente se diciamo è imprevista se viene imprevista ci siamo chiesti anche con Daniele quando ci siamo incontrati Tosca che tipo di cantante sia che cantante è una cantante popolare una cantante in jazz una cantante pensiamo che sia stata una cantante in questa nostra in questa nostra messa in scena una cantante piuttosto raffinata così come Cavaradossi non è soltanto un pittore ma è probabilmente anche e soprattutto un rivoluzionario così come Scarpia dal libretto cioè dall'opera da cui dalla genesi cioè dal testo di Sardù ne venga fuori poi in realtà molto più un sadico che non soltanto un funzionario ecco tutto questo in quei marmi che ricordano un po' il conformista ricordano forse un po' più l'Eur che non il barocco romano cioè togliendo diciamo questa ampollosità del barocco questi temi possano venire veramente molto più lancinanti forti ma nello stesso nello stesso tempo popolare grazie 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 Massimo e buon lavoro per oggi per tu e ti aspettiamo qui per le prove grazie mille grazie a voi grazie e ovviamente ora due monumenti uno di palcoscenico uno di podio il maestro emerito Zubin Meta che dirigerà uno delle opere che sono diventate uno dei punti di riferimento per questo titolo del maggio nel mondo quindi la Turandot la sua una prima domanda di proprio curiosità 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 quale finale facciamo con noi comunque c'è anche Stefania Grazioli che riprende la regia di Jean Gimou per poter approfondire magari qualche aspetto grazie caro maestro per piacere buongiorno a tutti grazie con questi quattro giganti dove io sono seduto difficile adesso rispondere però una cosa caro Dario tu mi mancherai moltissimo non solo come presidente della fondazione sindaco ma anche come amico umanamente mi mancherai molto molto ci mandi una carta postale da Bruxelles speriamo io sono molto felice di fare benvenuto al nostro nuovo sovrintendente presidente Gianni che sempre ha avuto grande appoggio al teatro sempre ringrazio maestro Fortes sarà il mio sedicesimo sovrintendente lei è come la regina Elisabetta uguale i primi ministri non si ricorda più quanti sono ho cominciato non mi ricordo con chi nel 1962 io sono molto grato a questo teatro che mi ha appoggiato sempre invitato di nuovo due cicli di Ring di Wagner uno con Ronconi Pizzi e l'altro con la Fura del Spaus con grandi cantanti veramente e sono cresciuto qui con musicisti dell'orchestra e del coro con quale io studiato e imparato molto io sono qui vicino mio collega Daniele Gatti il concerto di sabato auguro tanti tanti auguri sarò lì anche io quantità di Mahler non l'ho mai fatto qui maestro con le sue parole un monumento anche alla sua umiltà veramente grazie per le sue parole così sentite partecipate semplici e affettuose davvero grazie per questo il turandot quelli dell'orchestra del coro che erano con me a Pechino 1998 non dimenticano mai non dimenticano 9 volte 4.000 persone hanno sentito la città proibita questo turandot ma qui il teatro è un'altra cosa sarà un show grandissimo veramente io ho visto ieri dopo tanti anni per la prima volta con i costumi eccetera io provo chiamare Gianghi Mo ma non lo trovo in Cina per dirlo che ci manca anche però la Stefania continua la sua tradizione e fa una regia molto molto sostanziosa grazie grazie a tutti signori abbiamo parlato abbastanza io mi ringrazio e auguro un buon festival cominciato da Daniele grazie maestro grazie di cuore nella nella programmazione operistica ovviamente turandot tosca nel solco delle celebrazioni per il centenario della morte di Giacomo Puccini al centro Jeanne d'Arc opera contemporanea commissionata dal maggio a Fabio Vacchi che sarebbe dovuta andare in scena durante la pandemia e fu cancellata da allora quindi una seconda nuova produzione in cartellone una prima assoluta mondiale abbiamo con noi in collegamento da Milano da casa sua Fabio Vacchi il compositore è una è un'opera tragicomica avevi detto tu stesso ovviamente quindi forse con un finale diverso da quello che uno si aspetta ce ne parli un momento per favore grazie l'audio ancora vi sentite? sì grazie allora intanto buongiorno a tutti grazie di avermi invitato questa conferenza un grande saluto intanto a tutti gli amici che conosco seduti in quel tavolo bene io premetto che vengo da due esecuzioni molto importanti Madina alla Scala e Bandiere Nera all'Opera di Roma che trattano temi tragicamente attuali temi di guerra e di terrorismo al contrario Jean d'Arc è un'opera comica che viene da un poema eroicomico di Voltaire perché ho scelto Voltaire Voltaire rappresenta l'illuminismo quindi per me è la nascita della modernità il momento storico in cui si sono sollevati una serie di problemi che sono attuali ancora oggi quindi come il poema eroicomico che era molto in voga all'epoca perché utilizzando la storia dell'antichità faceva satira sul presente ancora adesso credo che sia attuale la visione di Voltaire è un poema i poemi erano sempre pieni di satira feroce è un genere molto in voga nel settecento voglio ricordare per esempio era molto famosa la Eneide travestita di Blumauer che era un caro amico di Mozart eccetera eccetera potrei citare tanti ma insomma mi lungherei questi poemi erano pieni di satira feroce e anche scurrile noi abbiamo assieme al librettista Stefano Iaccini che mi piace ricordare qui abbiamo addirittura operato alcune censure sul testo di Voltaire alcune censure su momenti che potevano risultare anche per noi in qualche modo erano disturbanti per esempio abbiamo tagliato quello che era un topos del poema eroicomico e cioè lo stupro nel convento di Monache per esempio nonostante noi non siamo certo dei bacchettoni anzi direi proprio tutt'altro ecco Voltaire in ogni caso non si scaglia mai contro la dimensione spirituale della religione ma bensì contro l'ipocrisia e la prepotenza del potere temporale un po' di tutte le religioni ci sono due personaggi che sono San Dionigi e San Giorgio appunto protettori di Francia e Inghilterra questi rappresentano nella satira rappresentano un po' quello che sono le lotte oggi da stadio e anche i dibattiti politici dell'oggi che sono infarciti di banalità luogo comune strumentalizzazione dei fatti erisse in sostanza ecco quindi poi ci sono personaggi personaggi abbiamo inventato anche un personaggio cioè inventato rispetto al poema di Voltaire il personaggio di Gilles De Ré l'abbiamo inserito ed è un'invenzione parziale perché intanto Gilles De Ré effettivamente combatte insieme a Giovanna contro gli inglesi ed è citato anche assieme a Giovanna in uno scritto di Voltaire in una lista di breve lista di personaggi celebri che furono vittime della superstizione dello scurantismo furono mandati a rogo con accuse pretestuose eccetera eccetera quindi Voltaire in qualche modo anticipava quella che è stata la visione dei storici del novecento che hanno diciamo dimostrato documenti alla mano che questo Gilles De Ré era tutt'altro che il personaggio che poi imperò diventò barba blu ecco abbiamo anche aggiunto un lieto fine perché l'originale di Voltaire si ferma in un certo punto in cui Giovanna viene nonostante sia attratta affettivamente diciamo pure eroticamente dal personaggio dell'asino alato è un richiamo da Apuleio in Voltaire ecco noi abbiamo fatto finire invece in un modo diverso aggiungendo un lieto fine inventandoci un lieto fine che qui non starò a raccontare per non togliere la sospense abbiamo anche inventato abbiamo aggiunto un personaggio nella piesca è lo stesso Voltaire che fa da voce narrante e che tiene un po' le fila della storia poi c'è un altro un'altra figura nella storia di Voltaire che è l'Ermafrodita l'Ermafrodita che è ispirato evidentemente a un personaggio famosissimo dell'epoca che è il suo Cavaliere di Aeon che era noto in tutte le corti dell'epoca le quali si chiedevano e non fu scoperto fino alla sua morte se fosse un uomo o una donna perché vestiva entrambi i panni a seconda delle diverse circostanze carissimo carissimo autore dica stai scoprendo tutte le carte hai dato no sto raccontando quello quello che è il libretto ci stai facendo vedere tutto quanto lo spettacolo così come così come sarà dobbiamo mantenere un po' di sorpresa al pubblico che verrà certo va bene per dire che sto sforando i tempi concessi mi provo sei un uomo di teatro comunque profondo conoscitore di questo comunque mi fa piacere dire una cosa aggiungere solo una cosa ovviamente in buca ci sarà il contemporane ensemble il direttore Alessandro Cadario il regista Valentino Villa e la programmazione dell'opera quindi commissionata a Vacchi è quella perfettamente anche questa di essere nel solco della tradizione del maggio che non ha mai evitato di guardare almeno negli anni del suo massimo fulgore portato in avanti alla contemporaneità al novecento prima e alla contemporaneità adesso quindi in sala in sala meta ovviamente andrà in scena a questo spettacolo a partire dal 14 di maggio e con le parole del compositore mi auguro che ci sia anche per questo titolo un veloce esaurimento di biglietti e si possa andare ad annunciare anche per questo il tutto esaurito grazie comunque grazie di cuore Fabio scusami grazie mille a te un caro saluto a tutti quanti grazie di cuore volevo dire una cosa che ancora non era stata annunciata lo scorso novembre ovvero sia che grazie alla collaborazione ormai quinquennale con il museo novecento diretto da Sergio Risaliti anche quest'anno abbiamo il manifesto l'opera d'arte che segna il festival che è stato concepito all'opera da Francesca Banchelli che è comunque qui qua c'è l'elaborazione grafica dello studio archeo ovviamente che è il manifesto che poi sarà quello pubblicitario l'originale è visibile giù in plateo lo vedrete magari adesso scendo comunque in ogni programma di sala ci sarà l'immagine intera sono Turandot centrale ovviamente la Tosca da una parte e Jean d'Arc dall'altra Francesca è qui e la ringrazio comunque di essere venuta soprattutto per il suo omaggio che ha fatto a noi in questa occasione grazie grazie a tutti di essere intervenuti e viva il maggio grazie a tutti L'occasione della giornata mondiale della danza, dal teatro del Maggio Fiorentino. Viva la danza, Roberto Bolle. Lunedì 29 aprile, 21.30, Rai 1.